Signor Presidente, ogni nave da crociera a Venezia inquina come 14.000 vecchie auto. Sfiorano piazza San Marco con i serbatoi colmi di carburanti allo zolfo. Imbarcazioni e vaporetti rischiano continuamente di venirne stritolati. Sulle soluzioni possibili i gatti e le volpi della politica fanno i finti ciechi, ma vedono benissimo ciò che a loro interessa. Il Ministro Lupi, nuovo centrodestra, il Presidente della Regione Veneto Zaia, Lega, l'ex sindaco Paolo Costa, Partito Democratico, si sono già accordati. Vogliono scavare un nuovo canale dal centro storico al canale dei petroli, lungo 4 chilometri, largo 140 metri, profondo 10. 7 milioni di metri cubi di fanghi ammassati ai lati taglierebbero in due la laguna. Non si può fare. Le leggi di salvaguardia per Venezia lo vietano. Per ottenere cosa, poi? Le navi porteranno ancora inquinamento in centro storico, andranno a intasare il traffico pesante sul canale dei petroli e rimangono i rischi di sversamento nella laguna. Il Ministro Lupi la definisce una soluzione provvisoria a breve termine. 170 milioni di euro per una soluzione provvisoria a breve termine. Due anni si sono persi in chiacchiere. Tre servirebbero per i lavori. Intanto riducono i transiti e l'occupazione. Per le vacanze di Natale voleva addirittura inserire il progetto in legge obiettivo per eludere i controlli ambientali di garanzia, le valutazioni e la concertazione con i cittadini. Perché una cosa è chiara, se si procede come si deve, una cosa simile non può passare. Vuole davvero mettere in sicurezza la laguna? Apra la mente alla realizzazione di nuovi approdi fuori dalla laguna, ad esempio in bocca di porto del Lido. Le navi attraccano esternamente all'isola del Mose. 6 miliardi ci costa, usiamolo. Là c'è già una centrale elettrica che può alimentare le navi, così mentre stazionano spengono le ciminiere. Restando fuori dal Mose poi la laguna resta al sicuro. E possono andare e venire quando vogliono, anche quando c'è acqua alta. I passeggeri possono raggiungere l'isola con battelloni panoramici come quelli di Parigi, creando nuova occupazione. Ministro, vuole davvero fare presto? Questi progetti si basano su attracchi mobili, senza scavare, senza alterare l'ambiente. Costano poco e si realizzano entro un anno. Il Movimento 5 Stelle ha depositato una mozione già prima di Natale, la legga. E mentre gli italiani aspettano il lavoro che la politica non offre, lei stia fermo. Riposi la mente, Ministro. Si riposi.